bella a tutti ragazzoli e benvenuti in questo nuovo video io sono maullo941 e oggi siamo tornati con i nostri gamberetti signori miei questi appuntenti l7 sono simpatici perché riusciamo a portare avanti velocemente questa carriera e a vedere se riusciremo mai a conquistare qualcosa di importante allora noi abbiamo una partita con il mecclesfield penso mecclesfield siamo al 20 di agosto io direi la formazione è questa sono un poco stanchi ma non ho che farci devono fare gli straordinari miei ragazzi il prossimo incontro è fondamentale aspettate c'è salivan che forse vuole giocare paolo maullo che dici facciamo giocare salivan direi di sì facciamo giocare salivan che se l'è meritato mettiamolo in campo così vediamo se riesce a fare qualcosa di interessante allora leviamo brewitt che è un 60 ed entra o sullivan va bene così non toccherei altro io sto ancora sto ancora sperando di riuscire a fare qualcosa di interessante ospiti andiamo come siamo ospiti simuliamo la partita tutti pronti fra 3 2 1 grido di battaglia astag forse gamberetti forse gamberetti forse gamberetti forse gamberetti forse gamberetti tagli così 1 a 0 7 raga ha segnato di uguali l'innominabile di augurera abbiamo due giocatori di augurera che innominabile che comunque segna una partita col partita e il nostro portiere che non lo so nominare nemmeno raga gubou 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 tutto tutto buono e benedetto ragazzoli tre punti portati a casa va bene così allora il nostro obiettivo effettivamente in questa prima stagione non secondo me non è neanche cerca di raggiungere playoff e play out perché play 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 off raga perché se non è molto difficile se noi riuscissimo bravo bravo ottima partita e salivano bebbè fatto un buon lavoro se noi riuscissimo a comunque non retrocedere e a costruire comunque una buona squadra secondo me la cosa potrebbe già essere interessante allora noi quanti soldi ne abbiamo 1 e 26 riusciamo a prendere un altro osservatore senza mangiarci tutto lo stip il budget no perché questi osservatori fanno letteralmente cagare darren mitchell non mi sembra tutta questa bontà ma noi abbiamo bisogno di osservatori e lo andiamo a prendere così senza problemi allora lui è in scozia a lui invece lo mandiamo lo mandiamo in inghilterra dai mandiamolo a casa nostra per nove mesi così deve costarci una cifra normale qualsiasi tipo di giocatore va bene non ci troverà nessuno sicuramente non ci troverà nessun campione del futuro però intanto vediamo di far muovere un attimino le acque seconda partita del video signori miei seconda partita del video l'andiamo a giocare contro chi c'è qualcosa offerta per il trasferimento di sem le vall chi sei sem le vall sei in vendita si sei in vendita sul mercato sul mercato no non sei sul mercato le vall offerte ricevute le vall offerte ricevute le vall sei un 59 dc ma io ti vendo sinceramente vali 22 mi offrono 26 andiamo a trattare vediamo se riesco a strapparne 300 signori miei riuscissimo a strapparne 300 dico sarebbe una buona cifra sarebbe una buona cifra 626 il negozio offerte per il cartellino spariamo un attimino alto dico ci si può ragionare dai non ti sto chiedendo la luna dico sono 400 in più 290 va bene 290 ci sarà abbiamo fatto aumentare l'offerta di un bel poi nostro papa maullo accetta la trattativa e ci portiamo forse a casa tanti bei soldini poi io vorrei fare un'altra cosa vorrei fare un'altra cosa e vorrei andare a prendermi il nostro bel biondone ab mercato ab mercato il nostro il nostro bicolore ovvero gubdes che è un 64 noi che attaccanti abbiamo io faccio vai e vieni sto vomitando però vabbè abbiamo 62 un 63 io quasi quasi zitto zitto il nostro bicolore me la andare a prendere in prestito che dite contatta per il prestito perché 725 ci mangia lo stipendio però se lo vediamo io lo so che non sopporto giocatori in prestito raga lo so perfettamente però però secondo me lui potrebbe essere 18 anni potrebbe essere una cosa molto interessante allora prestito di un anno vediamo se gli va bene un anno di prestito siamo d'accordo perfetto un anno va bene come pagamento dello stipendio pagamento dello stipendio 50 e 50 dai 1700 1700 si può fare la vostra sessione giornata ci sembra giusto siamo contenti abbiamo raggiunto un accordo buona giornata così subito secco se io voglio mettere una clausa non si può mettere nulla va bene il nostro il nostro bicolore è già arrivato il nostro bicolore già è già firmato già è un nostro giocatore o dobbiamo aspettare che accetti il no è infatti dobbiamo aspettare che accetti il contratto praticamente va bene accetti la proposta di prestito intanto andiamo avanti alla prossima partita che è contro che squadra è questo rifiutato il prestito papà porca miseria rifiutato proprio se la sedia sti da noi in prestito può considerarsi è simpaticissima il bicolore un giorno rimpiangerà questo questa sua scelta un giorno questa sua scelta sarà rimpianta e va bene lasciamo la stessa squadra contro l'ex 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 eter l'ex eter non so come si pronuncia l'ex scusatemi per chi conosce queste squadre mi scusi per la pronuncia perché sono completamente ignorante allora siamo pronti la squadra in campo grido di battaglia hashtag forza gamberetti forza gamberetti forza gamberetti forza gamberetti 21 raga ma è pauroso è poveroso raga stiamo fanno una cavalcata bellissima di augurara ed elev vantaggio nostro pareggio loro dell'ex e poi l'ottantanovesimo di augurara la messa dentro bella così raga buono così buono così buono così saliamo saliamo su ora c'è il celsi a posto ora ridiamo raga ora si ride ora si ride mamma mia se accetta una scommessa e quanto perdiamo contro il celsi secondo voi secondo me un 3 a 0 lo prendiamo sicuro un 3 a 0 lo prendiamo senza senza se senza ma ora raga dico stiamo andando a giocare contro il celsi non abbiamo nessuna possibilità di vincere quindi io se ci permettete mi vado a mettere tutti quanti i panchinari raga non ve la prendete a male non non vedete la come un abbandonare il la 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 competizione ma che non ok qui facciamo giocare tutte dove tutte tutte non la prendete come un abbandono della della competizione ma non ho assolutamente che farci non non posso puntare su tutte le competizioni quest'anno la vel ok hold fuori per bulu bulu buxton fuori per io ho venduto i tstt parca miseria che bella cavolata che ho fatto mio bubù fuori per rocce così raga facciamo giocare anche loro non si offendere perché anzi gli stavo facendo fare una partita importante quindi vediamo un attimino sempre ovviamente come ospiti come simulazione simulazione io dico 3 a 0 ragazzi tra l'altro siamo pure a casa loro qui il grido di battaglia non me lo spreco raga il grido di battaglia non me lo spreco perché secondo me finisce male 50 mamma mia mamma mia ero stato ottimista col 3 a 0 giorginio doppietta di william un gol di martinez e un gol di mount e vabbè ragazzi sta voglio dire era la carabao cup non ci interessava quest'anno la carabao cup hanno giocato i panchinari e noi ci sta bene così praticamente ci sta bene così allora andiamo avanti all'ultima giornata di mercato mi fai fare prima la partita o prima mi fai finire il mercato no prima mi fai fare la partita ora che noi siamo non in campionato con 9 punti ricordiamo che le squadre sono 24 dico la vel venduto ok quindi entrano soldi nelle casse dei gamberetti sto attraversando un buon momento ci sono quattro mail andiamo a vedere un attimino tutte queste mail giocatori impegnati con la nazionale tonev del vol luis la vel venduto 190 ce l'hanno dato va bene sotto attraversando un momento ci penserò e di aggurara ci penserò va perché simpatica di aggurara c'è un bel sorriso allora intanto facciamo la formazione rimettiamo i titolari let smith dove di aggurara perché non mi da di aggurara perché un cc di aggurara noi ci diciamo in attacco con va bene fallo giocare lì è una bestia praticamente lo sa fare non sa fare il l'attaccante però va bene esterno destro delev brewitt no wilding wilding e o sullivan che tra l'altro un esterno destro sullivan va bene noi lo mettiamo al centrocampo lo sa fare quindi va bene abbiamo una squadra un po mixata tonev gli esterni segni gli esterni in difesa rimangono quelli che sono old e da questa parte ci va se non sbaglio satton giusto se satton importa il mio cu allora rocce becker bulu brewitt c'è qualcun altro più forte che possono mettere in campo no la rosa è questa va bene la rosa è questa dai scendiamo in campo raga giochiamoci quest'ultima partita dopodiché fermiamo il video qui siamo contro il swindon contro il swindon signori miei attenzione formazione pronta in campo c'è tutto pronto si partenza grido di battaglia astag forza gamberetti forza gamberetti forza gamberetti forza gamberetti 1 a 1 zitti 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 va bene va bene l'1 a 1 va bene considerando che l'abbiamo pareggiata certo loro avevano l'uomo in meno potremmo fare qualcosa di meglio però va bene dai 1 a 1 ricordiamo il nostro obiettivo è comunque puntare alla salvezza allora signori miei vediamo un attimino la rosa la rosa la rosa perché se non sbaglio noi mancano sia un esterno sinistro infatti abbiamo un solo esterno sinistro che è craston e un solo esterno destro che è braxton buxton buxton scusatemi buxton quindi comunque ci serve un esterno sinistro e un esterno destro di sostituzione abbiamo quattro difensori centrali 1 2 3 4 che vanno bene a centrocampo abbiamo bray with canyon due esterni sinistri esterni sinistri abbiamo elison è stato un piacere elison mio non lo posso manco manda via ottimo poi abbiamo wilding di augurara tutte le uis abbiamo troppi troppi centrocampista abbiamo raga abbiamo troppi centrocampisti tutte wilding con 63 di augurante sandate che di augur che in attacco praticamente in attacco ne abbiamo slev che a 26 anni un 59 howard stoccom e l'ex smith va bene e c'è un attimino da volarci comunque ci lavoreremo nel prossimo video raga personale lo concederemo sul sistema definire la formazione perché siamo nelle ultime ore di mercato dobbiamo portare il remi in barca detto questo adesso vi ringrazio di aver guardato questo video vi ringrazio per i like per i commenti per i suggerimenti e per i consigli e soprattutto per il supporto noi ci vediamo sempre qui sul canale per un prossimo contenuto bella raga ciao